Musica Ragazzi sono JTF Karma Bentornati sul canale JTF Karma con il suo nuovo gameplay Quello che nel sottofondo è un nuked out Quindi 30 kill di fila senza mai morire Semplicemente con l'arma con il G4 su TCT Quindi tutti contro tutti Realizzato dal nostro JTF Rio TKIA FFA King Perché appunto è davvero assoluto Questo giocatore su questa modalità Tutti contro tutti sia veterano che nucleo L'arma che stava impugnando il nostro Riot Era un Kuda E la mappa era Nuketown Penso che come gestione degli spawn si sia appunto Preso una delle due casettine su A e su C Classiche della mappa Nuketown Fida i tempi di Black Ops 1 E quindi niente fate i complimenti a Riot nei commenti Passate dal suo canale perché appunto carica sempre Dei gameplay assurdi principalmente su FFA Detto questo Se volete un info Sulla classe e sulle tattiche che appunto Utilizza Simone per realizzare questi fantastici gameplay Chiedete a lui nei commenti che sarà molto felice di rispondervi Oppure semplicemente date un'occhiata ai gameplay che sforna appunto sul canale personale E vi renderete piano piano conto appunto delle tecniche migliori da utilizzare Detto questo abbiamo davvero poco tempo perché dura un po' meno di 3 minuti Precisamente 2 minuti e 45 secondi E pensavo di parlare in questo lasso di tempo Ci rimane Di come contattarci sui social Perché ho visto che in questo periodo un po' di persone stanno facendo richiesta per entrare Nel GTF Clan ma nessuna sa appunto Come poter contattare Gabri Ovvero Redentive Che sarebbe il leader Allora partiamo col dire che Ci sono principalmente 3 vie per mettersi in contatto con i miei GTF Clan La prima riguarda Twitter Gestito principalmente da me e da Jenna e anche a volte da Kratos Invece poi c'è quello un po' più semplice Mi parere che è Facebook Che tutti hanno Basta mandare un messaggio privato Nell'info Quindi nel link che trovate in descrizione in ogni video E poi il terzo modo Quello un pochino più complicato a mio parere è Telegram Ovvero in descrizione troverete l'ID di Redentive Che mi sembra sia Cucciolina Redentive 97 Numero di nona stronzata Comunque è scritto in descrizione Basta aggiungerlo su Telegram E poi appunto potrete mandargli il link del gameplay Il link dei commentari Il link delle grafiche Tutto quello che appunto vi serve per entrare come commentatore Grafico o PubStomp all'interno di GTF Clan Ci potrebbero essere dei piccoli problemi In quanto Gabriele appunto sta avendo dei problemi scolastici in questo momento Perché sta frequentando la quinta Ha comunque bisogno di tempo per preparare bene la tesina E tutti appunto gli esami che comporta la quinta superiore Nel caso comunque scrivete sempre su Twitter se volete La pagina è abbastanza attiva Quella di Facebook anche mi sembra sia molto attiva Oppure come ci sono sempre i messaggi privati su YouTube Detto questo io vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto Passate dal mio canale Passate dal quello di GTF Riot Ci si vede in un prossimo video Qui da Carmen è tutto Bella raga Non ti piace il GTF Figa Ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare Grazie a tutti Grazie a tutti